Io non ho fatto altro che rifarmi dal decreto del Ministero, che è proprio individuo dei settori economici. Fra le altre cose, i servizi alle persone non li ho tolti, ma sono contenuti all'interno del cosiddetto altri settori. La pesca non l'ho eliminata, per quanto non avesse un quorum, diciamo, tale da potergli permettere, di inserirlo con l'agricoltura. Per quanto riguarda il commercio estero, quello non è un settore economico, quindi non potevo minimamente tenerne conto. Non c'è una legge che vede che un'impresa possa associarsi in più associazione, quindi non capisco perché questi attacchi, quando Cirocusa stessa, li aveva pubblicati. Ebbene, noi abbiamo controllato, verificato qualcosa come 80.000 unità di imprese e di queste ne abbiamo escluse circa 13.000. Io ho proprio collazionate note, email, verbali di incontri. Ogni atto da me adottato è stato concordato, condiviso e accettato da tutte e tre i segretari di Catania, Seracusa e Ragusa.